Le curve sono impicchiate ed anche i modelli previsionali confermano la recessione dei contagi. Ne toccalo anche i ricoveri, parametri che entro il 7 marzo dovrebbero riportare il Veneto in zona bianca, ma con l'abolizione generale della mascherina all'aperto poco cambia. Questo effetto che stiamo vivendo, che è delle curve che sono in remissione, è dato la presenza di molti vaccinati e anche di molti guariti. Oggi l'R con T è 0,92, siamo scesi sotto 1. Sembrava un miraggio, no? Ma meglio ancora vi dico che l'area medica è a 15,6% e vi dico inoltre che siamo in totale piena zona bianca perché la terapia intensiva è 6,2%. Con un'incidenza di 1.181 casi su 100.000. Qui? 81. 1.181 su 100.000. Quindi se i dati avranno questa conferma nei prossimi giorni, dal 7 marzo, sapete che ci vogliono due settimane di conferma, noi siamo zona bianca. Quanto al caro Bollette, Zaia propone di rivedere la posizione dell'Italia sul nucleare. Guardate che il vero rischio dell'energia è una nuova delocalizzazione. Certo è che il problema non lo risolviamo con nuove trivillazioni, il problema è che qua dobbiamo decidere di fare una scelta di campo rispetto al nucleare. Anche sulle nuove disposizioni per le concessioni balneari, Presidente del Veneto ha una posizione chiara. Allora io penso che il tema delle nostre concessioni deve essere rispettoso della storia, dell'identità, dei sacrifici che hanno fatto i nostri concessionari. Io non faccio parte di quelli che credono che bisogna far gare dappertutto. E comunque se si faranno le gare perché l'Europa viene in casa nostra a dettare regole che io non condivido rispetto ai canoni Aldemagno, le si devono fare tenendo presente tutta una serie di, come si può dire, di aggiustamenti rispetto a chi c'era quando nessuno si preoccupava di quelle aree. Grazie.